Vieni, vieni. Fermate quell'altro dietro. Ma io lo conosco bene e lo accetto molto volentieri. Prego. Proprio questo tartubo. Ma tanto lo conosco benissimo e lo assaggio volentieri. Questo tartufo è stato diventare pizzo, nota in tutto il mondo. Io assaggio per poi. Come ti sembra? Questo me lo porto. Grazie. E salgo anche qui. E approfitto. E noi ti avremo una buona giornata. Grazie. E ci rivediamo. E buon lavoro a te. E lo ti trovo avanti qua. No, andiamo a fare un tiro? Sì. Io mando. Bene. Buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.